salve di nuovo amiche e amici di youtube stiamo di novità in novità da quanto ho saputo credo dal tg2 tirai international prima è stata la volta di pd e pdl di governare insieme adesso è la volta del movimento 5 stelle governare con il pd quali giri della politica quali giri della storia morale ci insegnano una cosa fanno un'altra quello è sempre stato così ma adesso anche i nuovi arrivati parlano come i vecchi questa è la novità in ciuccio non in ciuccio ci sto non ci sto e poi pd e pdl si sono fusi in un abbraccio che rischiava di essere mortale non solo nella sigla pd pdl adesso anche il movimento 5 stelle così ermetico si riduce magari a governare con pd e pdl urge la necessità di un movimento san ten chan ma forse io starò troppo occupato facendo video per youtube aspettando di superare quota 5000 visualizzazioni grazie di tutto e ci rivedremo ciao